Abbiamo spesso, sempre detto che la libertà di manifestazione del pensiero e quindi anche di svolgimento di manifestazioni pubbliche ha una sua sacralità intrinseca e che può essere in qualche modo compressa o limitata solo se ci sono motivi seri di ordine pubblico. Ora, ci sono delle valutazioni in corso. Non vi è dubbio che svolgere manifestazioni che potrebbero avere le caratteristiche, magari anche per motivazioni originariamente non volute dagli organizzatori, che potrebbero avere delle evoluzioni che in questo caso potrebbero essere lesive. Quindi non si tratta di contestare quelli che sono elementi di politica estera, lo Stato di Israele, la politica del governo di Israele, il conflitto israelo-palestinese, ma si tratta dei valori sanciti da una legge dello Stato. Quindi la commemorazione di tutto quello che è stato, la Shoah e tutto quello che l'ha riguardato. Quindi ci sono delle valutazioni in corso. Io confido le autorità di pubblica sicurezza nelle varie città, Roma e Milano in primis, ma non solo. Stanno incontrando coloro i quali intendono proporre queste manifestazioni per sollecitarne anche un'autonoma possibilità che vengano spostate da altri giorni. In fondo differirle in altri giorni non significa negare la libertà di manifestare, ma significa fare qualche cosa che la rende compatibile con i valori che sono connessi alla ricorrenza di domani. Ove questo non dovesse succedere per autonoma volontà degli organizzatori, faremo le nostre valutazioni a seconda degli scenari che si presentano e quindi adotteremo poi i provvedimenti di conseguenza.